Eh si raga avete capito bene, oggi siamo tornati in un nuovo Fortnite News, questa volta con delle notizie veramente molto molto succose Quindi vi ricordo prima di iniziare un bel like se volete un altro episodio della serie di Fortnite News Oggi obiettivo 25.000 like quindi adesso riusciamo a raggiungerli Mi raccomando condividete il video con tutti i vostri amici in modo tale che anche loro appunto possono vedere queste cose E possono capire appunto quale probabilmente sarà la fine della stagione 8 Oh mio dio regà, oh mio dio regà, oh che cacchio sta succedendo? Putta, oh ma ma l'avete visto? Ok non so se si è notato ho dovuto cambiare scena molto molto velocemente Comunque ero già in Fortnite e c'è stato un terremoto proprio adesso Raga vi devo parlare di un sacco di notizie Quindi mi raccomando vi ricordo un bel like e condividete il video con tutti, tutti e dico tutti i vostri amici Tutta la lista che avete nei contatti proprio nessuno si deve perdere questo video E mi raccomando inoltre non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere tutti i prossimi video E se volete essere dei veri capitani codice cap nel negozio oggetti Solo i veri capitani appunto possono inserire il codice cap nel negozio oggetti Vi ricordo di taggarmi una volta che avete inserito il codice perché avete una piccola probabilità che io vi mandi la richiesta di amicizia E vi regalo qualcosa che c'è nel negozio oggetti di quel giorno Vi ricordo che il codice ogni 14 giorni scade Perciò mi raccomando reinseritolo nel negozio oggetti L'obiettivo sono i 200.000 supportatori Dove farò vedere tutta la mia stanza completa Mentre ai 190.000 arriva mia mamma sul canale E facciamo un video veramente veramente stupendo Perciò raga 200.000 supportatori Che inseriscono il codice cap nel negozio oggetti Detto questo let's go Ok allora vi stavo dicendo che oggi sarebbe stato un bel Fortnite News su cose Proprio mentre lo stavo dicendo un nuovo terremoto ha colpito Fortnite Raga quello che sta succedendo in questi giorni non è normale E quello che vedete al momento è semplicemente la conseguenza di quello che avevo detto nello scorso Fortnite News Ovvero uno di questi 5 reattori si sarebbe appunto attivato A seguire si attiveranno tutti gli altri e vedremo un attimino le conseguenze che avrà appunto questi e questi reattori Sulla mappa di Fortnite, sulla stagione 8, sulla stagione 9 e soprattutto sul vulcano Ma raga qualcuno di voi per caso si è accorto che l'elicottero è sparito Perché vi ricordate appunto quell'elicottero che ronzava intorno alla mappa con il cannocchiale Bene per questo elicottero ho scoperto veramente due cose molto importanti La prima cosa è che guardava sempre sempre dritto l'Ute Lake In ogni posizione che si muoveva il cannocchiale insomma di questo coso guardava sempre a sponde del saccheggio E non è una cosa normale considerando che l'elicottero è spartito da sprofondo È arrivato qua su poi è arrivato qua 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 Insomma ho fatto tutto al giro della mappa per poi ritornare a sponde quindi all'ultima località Nella quale dal nuovo aggiornamento è completamente sparito e nessuno sa più dove si è finito Beh se a voi questa qui parla una cosa normale scrivetelo nei commenti ma non mi sembra Quindi da quanto ho capito l'elicottero c'entrava qualcosa con questo bunker gigante Che poi abbiamo scoperto che non è un bunker gigante Ma guardandolo da sotto la mappa appunto si vede quello che abbiamo visto nello scorso episodio Quindi mi raccomando se vi siete persi correte a vedere l'ultimo video di Fortnite News Comunque sia abbiamo scoperto appunto che l'elicottero c'entrava con questa cosa E dalla teoria che vi mostrerò alla fine di questo video scoprirete che c'è un'altra cosa molto importante Che c'entra appunto con questa cosa enorme Ma intanto raga è appena arrivata la notizia direttamente su Instagram, su Twitter Insomma un po' ovunque dell'Epic Games Guardate un attimino che cosa sta per arrivare Fortnite per Avengers in arrivo il 25 aprile Sarà praticamente una collaborazione appunto tra Fortnite e tra Avengers Che porterà sicuramente all'interno del gioco probabilmente due cose Delle skin nuove, quindi delle skin Qua vedo uno scudo di Capitano America Perciò penso delle skin a tema supereroi Avengers E poi secondo me porterà nuove modalità Magari avremo un ritorno di Thanos, sarebbe veramente figo Quindi raga io non vedo l'ora che sia il 25 aprile Per vedere appunto cosa l'Epic deciderà di fare in questa collaborazione E se non sbaglio c'è stato Donald Muster Che è appunto uno dei direttori dell'Epic Games Che ha scritto hashtag Avengers Endgame E se non sbaglio l'Endgame è il film che dovrebbe uscire il 24 aprile Insomma un nuovo film dell'Avengers Ok 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 stiamo calmi stiamo calmi Non so quanto ho detto ok Mi è appena arrivato questo link raga Ve lo stavo per dire direttamente nel video Comunque sia Sono apparsi dei raggi giganti per tutta la mappa Li vedete ok E appena appena adesso sono le 6 6 di pomeriggio di ieri ovviamente Ed è appena successa questa cosa Io sinceramente vi devo mostrare un video Nella quale appunto c'era un leaker Che tramite dei file di gioco Scopriva appunto questi raggi Ma ci sono arrivato un po' tardi raga Perché evidentemente i raggi sono già apparsi sulla mappa Insieme ovviamente al vulcano che sta emettendo del fumo Ok di questo raga ne parleremo tra poco Ok raga questo cambia totalmente tutti i miei piani Dato che non so per quale motivo il vulcano fumante Non è possibile vederlo in parco giochi Starto direttamente una partita in singolo E vado appunto sul vulcano Vediamo un attimino che cosa è apparso E vediamo un attimino che cosa è appena successo all'interno del gioco Comunque Mentre andiamo sul vulcano Dopo anche tutti voi avete inserito il core check up Nell'inizio oggetti mi raccomando raga Vi parlo un attimino Anzi vi faccio un riassunto generale Di tutto quello che è successo in questi giorni All'interno del gioco Praticamente dal nuovo aggiornamento Quindi dalla part nuova che è uscita all'interno del gioco Loot Lake è appunto completamente cambiato Ora si chiama Spodder Sake Jobeck anche prima Però dall'inglese prima si chiamava Leaky Lake Mentre ora Loot Lake Quindi come prima E si è formato questo coso gigante All'interno di Spodder All'inizio questo coso sembrava innocuo Nel senso sembrava semplicemente un enorme bunker Che non facesse niente E insomma che fosse totalmente inutile Oh mio dio è vero Era vera questa cosa Il raggio è veramente apparso all'interno del gioco Il vulcano è fumante ovviamente Ragazzi c'è un laser che si muove all'interno del gioco Non chiedetemi che cavolo è Non ne ho idea Però ho visto un'immagine in cui c'è praticamente un ragazzo Che ci va vicino e lo guarda attentamente E si vede che c'è una runa Vicino a questo coso Ragazzi guardate quanti siamo Vedete questo qui è un perfetto laser Normalissimo Ok Qua dietro ragazzi c'è una runa Vedete C'è una specie di What? What? Perde vita? Raga questo qui Sconvolge totalmente tutti i miei piani E guardate al centro di Loot Lake Cos'è quella roba? Mi sa che si è alzato un'altra runa Inizierà a gironzolare per tutta la mappa Questa raga quanta vita? Vediamo Ok ancora non possiamo piccolarla Quindi ancora non perde danno O sbaglio? No ancora non perde danno Va bene Che figata Wow Ora sono morto ovviamente L'epic raga Sta impazzendo con sti laser Cioè io non voglio dire niente Ma ne sta creando un po' troppi insomma E un altro laser E si muove esattamente come quello di Wailing Woods Guardate un attimino No vabbè che figata Ma aspetta Ok c'è anche un altro cosino che spara sti cosi Un altro cosino che spara sti cosi Vabbè c'è un altro laser appunto che effettivamente spara il raggio E ha la stessa forma della runa che c'è a Wailing Woods Anche questo qui perde 50 di danno Anche se non sembra avere un danno totale E' apparso esattamente quando la runa laggiù ha iniziato a volare Adesso voglio fare la prova del 9 Voglio vedere se la runa che c'era appunto su questi laser E' uguale alla runa che si è alzata in questo momento a spawn del saccheggio E si raga guardate un attimino attentamente E' proprio la stessa identica runa La prova del 9 è stata confermata Sembra praticamente una specie di atomo una cosa del genere E raga questi laser serviranno a qualcosa Allora finisco il mio risunto Mentre intanto sono stra incuriosito da quello che sta succedendo Praticamente raga dopo che si era creata questa cosa gigante a spawn del saccheggio Una delle rune si è alzata Dopo tipo un giorno alle 6 dell'altro ieri Ha iniziato a gironzolare per tutta la mappa Partendo da palmetto e facendo più o meno questo percorso qua Quindi passa per condotti Fa un giro qua Passa per pinnacoli E poi torna a spawn Raga una volta raggiunto spawn Perdeva vita veramente molto molto velocemente Perché tipo all'inizio partiva con 500 milioni di vita I player picconavano e gli toglievano 50 a picconata Poi dopo verso la fine del suo percorso partiva con 98 milioni di vita Quindi insomma molto meno di quella che aveva inizialmente E quindi alla fine si è mossa molto molto più velocemente Per tornare a spawn del saccheggio E riposizionarsi al suo posto Accendendo uno di questi 5 reattori Io li chiamo in questo modo Del bunker Ora la seconda runa Secondo me farà la stessa identica cosa Anche se non ho capito esattamente a cosa servono questi laser Comunque sia la cosa molto strana E la cosa che appunto collega tutto questo con il vulcano È che una volta che la runa si è posizionata Qua dentro Quindi dentro il reattore Il vulcano ha iniziato a fumare Guardate un attimino Ora il vulcano è ufficialmente acceso Cioè nel senso vedete che là sopra nel cielo c'è il fumo Questo vuol dire che il bunker dietro di noi E il vulcano sono strettamente collegati tra loro E quindi raga quello che tutti stiamo pensando appunto sulla fine della stagione 8 È che una volta che si saranno accesi tutti questi bunker E quindi che le rune che volano una dopo l'altra Si siano riposizionate del tutto Accendendo appunto tutti i 5 reattori Il vulcano inizierà ad eruttare Adesso andremo a leggere la teoria appunto che vi dicevo Sulla fine della stagione 8 E la cosa da sapere Quella che avevo già svelato in un Fortnite News di tipo un mese fa È che probabilmente quando il vulcano erutterà Tutta la lava qua intorno Dissoggerà un gran pezzo di mappa Ma prima di dire qualcos'altro Andiamo a leggere la teoria Raga non l'avevo notato Ma c'è anche un terzo raggio Che colpisce picco polare E lo taglia completamente a metà Ma che cavolo Comunque grazie al canale Fortnite di TV Abbiamo una teoria esclusiva Che appunto riguarda la fine della stagione 8 Vi ricordo raga appunto che è solo una teoria Perciò credeteci ma non credeteci del tutto Ultimamente questi di Fortnite di TV Ti stanno andando sempre vicinissimo sulle cose Per esempio la stagione 8 L'hanno indovinata quasi del tutto Tutti gli eventi che sono successi durante la stagione 7 Li hanno presi tutti Anche quelli della stagione 8 Perciò raga mi fido veramente tanto Comunque sia leggiamo Qual è il destino della mappa di Fortnite? Tornerà al razzo? Partiamo dal principio Season 4 Evento del razzo Alla fine della stagione 4 Se non sbaglio mi ricordo tipo il 30 giugno Ci siamo ritrovati di fronte ad un evento molto importante per Fortnite La partenza del razzo Tutto era stato organizzato dal visitatore Con l'intento di distruggere pinacoli pendenti Ma non ci riuscì Il razzo fu alleviato dai rift Che gli aprirono un varco spazio temporale In cui ha continuato a viaggiare senza mai fermarsi o schiantarsi Season 6 Evento farfalla Durante l'evento della farfalla Molte persone sentiranno in sottofondo le sirene del razzo Già allora si ipotizzò che il razzo vagasse ancora tra quelle dimensioni Di ciò possiamo quasi esserne certi Ora Secondo i ragazzi dello staff di Fortnite di TV Il razzo si trova sotto al portone di Loot Lake Quindi avete presente quel bunker gigante Che appunto appena parso Sponde In teoria secondo i ragazzi di Fortnite di TV Il razzo è lì sotto E prendendo in considerazione quanto ho detto dai file di gioco Ovvero che si apriranno Sì raga perché infatti non ve l'ho detto Ve l'ho detto nello scorso Fortnite News Il destino di questo bunker gigante È appunto di aprirsi Quindi funzionerà più o meno come una porta Secondo me quando tutte le rune appunto saranno posizionate Si aprirà questa porta E succederà lì l'evento importante Della fine della stagione 8 Quindi quando tutte le rune saranno in posizione Si aprirà il portone Che permetterà l'uscita del razzo E il suo ritorno nella mappa Ma perché dobbiamo aspettarci un suo ritorno? Infatti raga me lo sto chiedendo anch'io Contemporaneamente a questo Il vulcano rutterà E infatti questo è quello che vi stavo dicendo Poiché abbiamo visto che dopo l'attivazione della prima runa È iniziato ad uscire del fumo del suo cratere La lava riempirà a sprofondo stantio E l'utilei che sceglierà tutta la zona sud ovest della mappa Ricoprendo quest'ultima Proprio come nella modalità di Florislava Prevedendo la distruzione della mappa di Fortnite Attenzione Quale sarà lo scopo del razzo? Sarà proprio il razzo a salvarci da questa catastrofe Portando tutti i players nella dimensione in cui è stato per tutto questo tempo Una dimensione accessibile dal mondo dei Rift La stessa in cui ci siamo teletrasportati durante l'evento Farfalla Con l'avvento di questa nuova dimensione Avremo finalmente la nuova mappa di Fortnite Allora vedevo di un gioco su Prima cosa secondo me è una teoria veramente veramente fantastica Perché prende in considerazione tutto quello che è successo E anche tutti i file di gioco Seconda cosa io non sono convinto solo sull'ultima parte della teoria Ovvero sul fatto che avremo una nuova mappa di Fortnite Questo perché? Perché l'Epic non ha mai fatto una cosa del genere E quindi sinceramente non sono convinto della nuova mappa Però della parte iniziale della teoria Quindi di tutte le rune, del vulcano che rutta Magari anche del razzo Perché anche del razzo qualche dubbio Diciamo che per queste cose sono abbastanza convinto Sicuramente al momento è la cosa più utile e più bella appunto su cui pensare Ora l'unica cosa che sinceramente non compare in questa teoria Perché è successo proprio tipo 20 minuti fa Sono questi laser che raga non sto capendo A che cavolo servono? Quindi raga oggi vi ho sposto tutto quello che avevamo finora Tutto quello che tutti i leakers del mondo Tutto quello che insomma le persone che stanno lavorando questo hanno scoperto Mi raccomando raga non dimenticatevi di iscrivervi al canale Attivare la campanella per l'opera di tutti i prossimi video Tutti i prossimi forni e le uso questo è fondamentale Perciò tasto iscriviti e di fianco campanellina E mi raccomando condividete il video con tutti i vostri amici Per farvi vedere tutto quello che abbiamo scoperto al ritorno del gioco E raga nei commenti iscrivetevi che cavolo sono questi laser secondo voi Perché ancora non l'ho capito Ah mi raccomando solo per i veri capitani Non ditelo agli altri che non sono dei veri capitani Inserite il codice cap nei negozi oggetti Ripeto è solo per i veri capitani Perciò agli altri non ditelo Ah raga mi raccomando una volta che l'avete inserito Taggatemi su Instagram mi chiamo capitanobezzeroofficial In modo tale che potrete riceverla Mi ha richiesto un'amicizia e qualche regalino dello shop Solo da alcuni di voi ovviamente Perché siete in tantissimi L'obiettivo sono 200.000 veri capitani Che inseriscono un codice cap nel negozi oggetti Ce la faremo E da questo surma noi ci vediamo nel prossimo video Ciao surma